Sono già 8.000 le famiglie aiutate in tutta Italia dall'associazione Salva Mamme dall'inizio dell'anno. A Roma da oggi l'organizzazione conta su un nuovo centro collocato al piano terra dell'ex casetta delle suore nel perimetro dell'azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. Ristrutturati grazie alla donazione circa 70.000 euro da parte della fondazione Nando Peretti, i locali e il giardino accolgono le mamme in misura minore, i papà, con problemi sociali ed economici. All'interno i genitori possono ricevere un aiuto legale, medico e psicologico dai volontari dell'associazione. Insieme al consueto taglio del nastro, la giornata è stata l'occasione per presentare un nuovo progetto organizzato da Salva Mamme dal nome Passerotti. Tra i vincitori del bando, della presidenza, del consiglio e del dipartimento per le politiche della famiglia, il progetto mira ad aiutare i bambini nati prematuri o con gravi patologie. L'idea è nata dal lavoro dei volontari svolto a fianco dei sanitari. Tante volte, infatti, ci ha spiegato la presidente di Salva Mamme, Maria Grazia Passeri, le famiglie disagiate lamentano i loro problemi ai medici dei reparti di maternità, perché non sanno a chi altro rivolgersi. Questo progetto si rivolge a un numero limitato di mamme e di famiglie, con bambini nati in questa azienda ospedaliare con la quale collaboriamo da anni e anni, insomma come un solo uomo, come si dice. Per bambini nati con grande prematurità o con problemi di malattia e con famiglie che hanno delle gravi difficoltà economiche e sociali, ci insegnano da questo ospedale che quando c'è questo connubio il bambino invece di migliorare in linea di massima può peggiorare. Quindi l'idea è creare un'equip fortissima che risponda con l'assistente sociale, la psicologa risponde subito alla famiglia, alle domande, la fianchi anche con i prodotti che la famiglia non può comprare in dimissione. Da questo ospedale, da questa azienda, sono arrivati negli anni decine di bambini minuscoli, fragilissimi, che andavano magari in una baracca senza niente. Noi abbiamo risposto già da anni e anni male, con tutta la buona volontà come potevamo, salvando anche qualche bambino sicuramente. E ora, grazie al Dipartimento, riusciamo a dare una risposta importante e completa. C'è qualcosa che manca ancora? Una richiesta di sforzo ulteriore alle istituzioni che voi lanciate? Allora, istituzioni, se mi sentite, non serve salva mamme, che risponde 8.000 bambini, 8.000 famiglie, non serve salva mamme. Serve lo sforzo di tutti e ora, in questo momento di crisi, invece di lamentarsi, recriminare, creare una enorme cittadella solidale dentro la città di Roma, aperta all'Italia. Ci sono in un vecchio forte, mettendo tutti insieme sinistra, destra, centro, facciamolo. Io so come si fa e con me anche sicuramente anche gli altri enti storici della capitale. Dove potrebbe sorgere questa cittadella? Magari in un vecchio forte. Noi abbiamo migliaia e migliaia di metri quadri, ma... Un'ex caserma. Un'ex caserma. Quindi noi abbiamo in questo momento 3-4.000 metri quadri, non bastano per fare le cose bene. Esatto, perché voi siete attivi anche in altri centri di Roma. Abbiamo con il Comune di Roma il centro della nutrizione del bambino, che risponde a migliaia di bambini anche in svezzamento. Abbiamo questo centro, abbiamo con l'assessore forte della regione la boutique Bebè. Comunque non basta. Mettiamoci tutti insieme tutto il vero no profit, non quello che va a picchiare i fondi statali, che purtroppo c'è, e facciamo tutti insieme questa cittadella della speranza che fermi le persone portate via dallo tsunami lungo della crisi. I rappresentanti di Salva Mamme hanno affermato che sono per lo più straniere le donne che si rivolgono all'associazione. Esse rappresentano un'utenza variegata proveniente da 90 paesi diversi. Una mamma di origine africana, con la sua bimba in braccio di circa un anno, ha raccontato quali risposte ha ricevuto dall'associazione, dai generi alimentari per la sua piccola ai vestiti. Allora mi hanno dato due numeri, hanno detto che c'è dove prendi mangiare per i bambini, pure c'è la posta dove prendi i vestiti per i bambini. Però io ho già andato due volte e dove prendi mangiare, loro mi hanno dato mangiare per i bambini. Il direttore generale del San Camillo Forlanini Aldo Morrone ha dichiarato che l'apertura della struttura porterà all'ospedale e alla cittadinanza del valore aggiunto. Questa struttura nuova all'interno dell'azienda ospedaliera, si può dire che aggiunge valore all'intero ospedale. Aggiunge valore, aggiunge salute, dignità, entusiasmo, passione, soprattutto perché viene incontro ai problemi delle donne più sole, delle donne che hanno maggiore difficoltà nella gravidanza, perché si prefigge il compito di restituire vita e dignità ai bambini e alle famiglie. Presente all'inaugurazione è anche il vicepresidente del Parlamento europeo, l'onorevole Roberta Algenilli, che ha ricordato come il 2011 sia stato dichiarato l'anno del volontariato. Non bisogna fare soltanto convegni o campagne di informazione con le risorse messe a disposizione dall'Unione Europea, bisogna sì sensibilizzare ma bisogna anche realizzare progetti concreti, cioè progetti misurabili in termini proprio di risultati, in termini di aiuto ai cittadini, alle persone, alle famiglie, soprattutto ai minori, anche perché questa può essere l'opportunità per realizzare delle cosiddette buone pratiche che poi possono essere esportate in altri Stati membri e quindi sviluppare un bagaglio di esperienze molto virtuoso che può portare in altri luoghi, in altri contesti, altri buoni risultati.